sei sicuro di andare? te sei sicuro sicuro? sicuro sicuro no lui non voleva venire il problema che non poteva più tornare indietro giusto? mi ha detto ma da dove si torna? non si può e quindi ti tocca farli per forza bravo e invece ci tocca ci tocca ci tocca ci tocca ci tocca